è lunedì significa che si è tornati all'ovile dopo un fine settimana travolgente passato in quel di Tortoreto Lido quindi Abruzzo quindi Mare anche se non solo perché l'Abruzzo è tutto è Mare Montecollino però Tortoreto Lido è Mare dagli amici di Camperlike adesso nella foto che state vedendo clic, eccola qua li vediamo dalla sinistra fino a destra abbiamo Quentino Catarra Antonio Cirino e Vincenzo D'Alessandro e sotto se vedete c'è anche la testa di Zoe che appare sono loro i tre moschettieri i tre condottieri atipici perché sono tre persone tre soci intanto che credono fortemente nei camp innamorati dei camper hanno deciso di intraprendere questa avventura ormai si conta decenni la loro esistenza nel settore hanno fatto grandi cose sempre con una serietà e una professionalità veramente ad alto livello e questo è importante perché se oggi sono il punto di riferimento sulla fascia adriatica per ben oltre quello che è l'Abruzzo significa che riescono a reggere sul mercato difficile e competitivo perché sono seri e perché sono professionali e questi sono i due elementi che fanno veramente la differenza tutti gli altri è roba che conta poco o quasi nulla e invece sono questi i due punti e questi tre personaggi ce li hanno sono seri e sono professionali hanno un'officina che sembra una clinica riuscire a trovare un po' di sporco in un'officina con l'olio il grasso e tutto quello che c'è è così pulita la sede che è facile in tutti i capannoni anche nelle migliori famiglie una ragnatela c'è lì non la trovate e ricordatevi che è dal dettaglio che si capisce poi il tutto dal dettaglio per cui cari amici di Camperlike un saluto un ultimo saluto fino a che non ci vedremo la prossima volta e ci mancate già